Femmine Ah, come sono attrezzata oggi Questa è l'asciugamano per il viso, questa per il collo, questa per il bidet Questa per l'interno coscia e questa per i piedi Maschi Jacopo, dov'è l'asciugamano per il bidet? Jacopo? Vabbè, non è questo E per lavarmi utilizzo uno shampoo per capelli normali Un balsamo districante e ristrutturante Un bagno schiuma tonificante Un detergente intimo E infine un olio nutriente per le punte dei capelli Maschi E per lavarsi un bello sgrassatore Come si lascia bene? Come si lascia bene? Femmine Devo fare una lavatrice Vabbè Che problema c'è Maschi Oddio Che cosa sono questi aggeggi infernali? Sono per caso alieni Che cosa faccio adesso? Pronto mamma? Ma come minchia si usa la lavatrice? Che non ci capisco una sega Femmine Femmine E per concludere E per concludere Una crema misi idratante Maschi A posto Femmine Chissà quando usciremo da questa situazione La nostra economia verrà distrutta Le piccole imprese saranno in difficoltà E serve un sostegno per i nostri cittadini Maschi Uffi ma quando ricomincia la serie A? Dai che devo vincere il fantacalcio Porca di quella tro... Femmine Ufff sono venuta male Rifacciamo Maschi Ciao Mendiamo una foto alla mia ragazza Oh ma come sono venuto bene Benissimo Femmine Maschi Boh si asciugano col vento Femmine Femmine Se che tu quieres conmigo amor Todos esos placeres Che brindan la vida E che non la hacen tan felices Maschi What is my destiny? Dragon Ball Io so che tu lo sai Dragon Ball Perché non c'è Un drago che Sia grande come te Dragon Ball Maschi Mamma mia quanti peli che ho sul petto Sembrano zerbino Vabbè ma sti cazzi Uomo peloso Sempre stiloso Uomo peloso Sempre stiloso Uomo peloso Sempre stiloso Uomo peloso Femmine Mamma mia quanti peli che ho sotto le ascelle Che l'estetista è chiusa Vabbè dai avrò qualcosa in casa Piuttosto che depilarmi non il silkepil Mi faccio le trecce Femmine Ciao bella come stai? Ehi Sono in ufficio In riunione Ah Sei in ufficio in riunione Maschi Ehi Che fai? Sto facendo la torta Oh che carino Che torta Di merda Oh chissà Che sto facendo Che produzione artigianale Voglio andare via da qui E invece io resto qui Eh 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 eh